Ciao a tutti amici di Città di Modena, mi chiamo Giovanni Bigi e lavoro presso l'Ufficio di Statistica del Comune di Modena. Il mio ufficio si occupa di produrre dati e informazioni sulla nostra città e dati di carattere demografico sulla popolazione, studiare l'andamento dell'inflazione, il fenomeno dell'incidentalità stradale, i fenomeni economici e quant'altro può servire agli amministratori della nostra città. La statistica però non serve solo agli amministratori, ma serve anche alla gente comune. Infatti mi trovo adesso nella sala del meccanismo dell'orologio del comune, quello che si è fatto su Piazza Grande e sono venuto qui per forvi una domanda un po' particolare per avvicinarvi appunto alla statistica. La domanda è la seguente. Secondo voi, tra i residenti del nostro comune, ci sono più nomi o più cognomi.